Del Tevere a Gragnano, frazione di Sansepolcro, per una a due giorni dedicata al calcio, quello che conta, con il sorriso sulle labbra, ugualmente faticoso, degli over 40. Abbiamo anche gli amici laziali, ben trovati. Grazie, noi siamo di Fiuggi. Quindi le acque di Fiuggi oggi ci aiuteranno, un torneo, una a due giorni, se non sbaglio, ho detto con il sorriso sulle labbra, cioè veramente tra amici, no? Sì, sì, grazie, assolutamente sì. Grazie che ci avete chiamato, noi siamo venuti molto volentieri e cercheremo di rallegrare il torneo insieme a voi. Sicuramente un bel impianto che dà la possibilità ancora di più di divertirsi, anche oltre 40, no? Senza dubbio, perfetto. Per quanto mi riguarda mi ci trovo benissimo, come tutti gli amici miei, campo in verde, albergo perfetto, quindi benissimo. Il tempo poi ci aiuta, quindi siamo contenti. Assolutamente non è il gualdo Casa Castalda di Serie D, però anche qui calcio a 360 gradi con gli over 40. Una squadra qui in Alta Valle del Tevere, anche da Casa Castalda. Bentrovati, con che spirito? Sempre con lo spirito del divertimento. E Guai naturalmente si abbandona? Certamente, assolutamente sì. A differenza di tante altre squadre che sono arrivate da ben più lontano, qui da Sansepolcro e da Gragnano, voi siete più vicini, avete il rientro la sera o vi fermate in Alta Valle? No, no, rientriamo a casa 75 km e ne facciamo bene. Allora, abbiamo visto un bel impianto, vero? Sì, abbastanza, abbastanza bello, sì. Voi venite per divertirvi, però c'è sempre un obiettivo, quello di far bene, ma anche della vittoria, che dire? Certo, certo, lo spirito è sempre quello. Divertimento sì, però il fine è sempre la vittoria. Una battuta su quello che ufficialmente siete voi come squadra, vi chiamate? Ultimi calci Casa Castalda. Speriamo che siano anche i penultimi, dai, buon divertimento. Grazie, grazie. Il colore verde lo contraddistingue da tutti gli altri giocatori e allora ci siamo chiesti, sarà sicuramente l'arbitro. Ben trovato in uno o due giorni, comunque faticosa? Benissimo, mi sto divertendo e ho accettato volentieri di fare questo torneo che è amatoriale e anche io sono ultra amatoriale. Lo spirito è quello giusto in questi due giorni a Gragnano, sì? Indubbiamente sì, è sempre stato in questa maniera, per divertirsi, per svagarsi, per stare insieme. Indubbiamente questa è la finalità. Si può giocare e si può praticare qualsiasi sport a tutte le età. Il controllo, la voglia e sicuramente anche essere sicuri che c'è da faticare e sudare. Indubbiamente a tutte le età si può fare qualsiasi sport. Bisogna essere liberi di testa per farlo e naturalmente non gasarsi più di tanto perché quello che conta è tenere in allenamento il nostro fisico per vedere di star meglio il più possibile. È vero che i giocatori over 40 comunque sono fastidiosi in campo come i più piccoli, i più grandi, quelli di serie A, di serie B. Il calcio è il calcio e il fine è uno, diciamo la verità. Ma io ho un'esperienza in merito e io credo che gli over 40 siano ancora più tignosi di quei più piccoli perché sanno di fare tutto, sanno di essere bravi e poi non vogliono ammettere che poi qualche volta non si arriva dove si vuole arrivare. Lo vediamo ora, sicuramente lui si sta riposando, sta studiando le tattiche. È un collega calciatore del Casa Castalda. Come va? Stanchissimo. Ma ha già giocato? Sì. Quindi questo è un po' per ritirare il fiato? Certo. Abbiamo sentito prima da un tuo collega che voi fate avanti e indietro con la strada naturalmente, non vi fermate in Alta Valle del Tire. Perché è un'ora di macchina più o meno. Mi ha detto che il nome della squadra è incredibilmente Ultimi Calci, una cosa del genere. Sì, è vero, è vero, Ultimi Calci. Il campo è bello anche visto da qui, veramente un bel impianto. È un bel impianto, è un bel impianto e diverte giocarci sopra.